Ciao a tutti, il Talk è una carrellata di controller delle ultime console, praticamente la Wii, la Xbox 360 e la PS3, conoscete tutti immagino. Vedremo un po' le caratteristiche dei loro controller e come si possono usare, come vengono, sono stati utilizzati per usi che non fossero legati alla console stessa. Quindi in pratica si è cercato un'interfaccia con un PC e da lì tutte le possibilità si aprono a ventaglio. Bene, cominciamo. Vediamo subito una prima applicazione, questa qua, l'uso del remote come mouse attaccato a un PC Linux. C'è bisogno di una serie di controlli integrati, ha degli accelerometri ma in particolare ha una telecamera a infrarossi. Quindi ha bisogno di una fonte a infrarossi, la classica barra, sono semplicemente dei LED a infrarossi che vengono rilevati da telecamera e in base alla posizione in cui vengono rilevati viene calcolata la posizione, la direzione in cui è puntato il controller. Non c'è bisogno di un LED a infrarossi, basta una sorgente a infrarossi, può essere una candela accesa, può essere un faretto tipo quello. Questo, quel faretto lì sta puntando in quella direzione e il mouse, il controller, funziona. Ah, per cui non è direzionale? Non è direzionale, gli basta avere una fonte puntiforme, il più possibile puntiforme, se ne ha due è meglio, in questo caso due. Dopodiché, i soliti pulsantini, insomma, una volta interfacciato con il PC è possibile utilizzare tutti i dispositivi che ha integrati. Diciamo che è stato il primo che è stato utilizzato per usi alternativi. Vediamo qui alcuni esempi, in un laboratorio di fisica, ci vedete qua, no? Sto proprio in mezzo. In un laboratorio di fisica, mi ha spostato loro. Allora, in un laboratorio di fisica, è stato utilizzato il remote per gli accelerometri del remote. In particolare, per il calcolo del moto lineare, accelerato, e per l'accelerazione centripeta, scusate la poca dimestichezza. Un altro utilizzo che è stato fatto è collegarlo a un lanciamissili, non so se si vede, sì? Un lanciamissili di tipo di giocattolo USB, per fare il puntamento automatico di oggetti che avessero comunque una sorgente infrarossa. Perché ovviamente la telecamera traccia quel tipo di segnale. Questa è una telecamera a inseguimento automatico. È stata utilizzata, è stata creata per lo snowboard, in modo che c'è la persona che scende e la telecamera insegue la discesa della persona in quel punto particolare. Sempre ovviamente con una sorgente infrarossa addosso. Questo qua in mezzo è collegato, è interfacciato il remote con un dispositivo che conteneva tanti strumenti musicali. E con il remote era in grado di comandarli e regolare i suoni, inizio, fine, eccetera. L'ultimo qui, ma sono solo alcuni esempi, perché ne trovate a bizzeffe. Questo qui è stato collegato a un braccio per analizzare il movimento del gesto atletico del servizio da tennis. Non so se si vede, ma sul pollice è collegato un pulsante, un sensore che fa il pulsante, mentre il remote è collegato al braccio per registrare le accelerazioni del movimento. Siccome le accelerazioni sono, abbiamo visto prima, non so se si è visto, scusate, allora cambia, sono su tre assi, è in grado di registrare i movimenti sui tre assi e i movimenti di impennamento, di rotazione, di varie rotazioni insomma. Bene, vediamo qualche filmatino. Questa roba bagnata qua. Allora, dove sta? Questo qui. Vediamo così. L'ed tracking è una... è un sistema per cui la figura umana viene registrata, viene scontornata, in teoria. Comunque, sì, il concetto di base è questo. Come viene illustrato nel filmato, la visione... l'ed tracking viene registrata a posizione della testa rispetto allo schermo e poi si ridisegna lo schermo in modo che rappresenti un pseudo ambiente tridimensionale a seconda che si sposta, viene disegnato, è sempre 2D ma viene disegnato in prospettiva, cambiando a seconda della posizione degli occhi rispetto al punto di visualizzazione. Il tizio qua, in particolare, Gianni Lee, è quello che ha cominciato a fare... quello che ha dato un po' il via. Rivediamo un attimo. Questa è la... è come si vede un... ha collegato il sensore alla telecamera. Qui, come si vede normalmente, uno schermo 2D, qua invece è il risultato che vedreste se aveste i sensori, cioè i led ai tre rossi, accanto agli occhi. Prima avevo mostrato un paio di occhiali con su montate delle cose. Come vedete, l'effetto è piuttosto realistico. Molte hanno seguito le sue urme, diciamo, e hanno replicato in varie forme questo sistema. In particolare l'hanno migliorato aggiungendo la visione stereoscopica. Il disegno a schermo viene suddiviso usando degli occhiali anaglifi, quelli rossi e blè, se avete presente, si ha anche una percezione tridimensionale, oltre che una visione fasulla, diciamo, dovuta alla finta prospettiva, alla prospettiva del disegno. Ripeto, il tizio qua, Johnny Lee, ha cominciato con parecchi progetti, tra cui questo, credo, è la cosiddetta lavagna elettronica interattiva, lavagna, la limma, lavagna interattiva multimediale, che c'è un certo movimento che cerca di introdurla nell'uso, nelle classi. Mentre c'è una spinta ad acquistare schermi, lavagne multimediali molto costose, una cosa del genere costa molto meno, c'è solo bisogno di un proiettore, un remote e un pc, quindi comparativamente è un decimo del costo che dovrebbe una lavagna elettronica commerciale, diciamo. E questo è Johnny Lee. Johnny Chong Lee. Andiamo ad un altro. Il tizio qua ha interfacciato il remote tramite pc, in modo che gli eventi, non solo il remote, ma anche il non-chack, che vedremo dopo, l'ha interfacciato in modo che i movimenti del remote vengono convertiti in eventi MIDI e in eventi MIDI vengono indirizzati al suo apparato di sintesi musicale. Adesso qui spiega un po' cosa ha fatto, come non ha fatto, come collega i vari pezzi. Non so se si sente qualcosa, ma... Questo è il massimo, mi spiace. che vediamo un attimo. Mi spiace. Vediamo un attimo. Il non-chack, come vedremo dopo, ha sia i accelerometri del remote che i pulsantini che sta usando adesso. C'è un controllo a joystick, diciamo. Schifiamo un po'. Prima usava il joystickchino, adesso sta usando gli accelerometri incorporati. adesso interfaccia anche il remote per altri effetti musicali. utilizziamo il remote per generare i segnali e il non-chack per deformarli, diciamo, modularli. Per conclusione, questo è quasi il stesso patch, ma ho avuto un delay. Sì, qui va. TOT ha cambiato in settaggi in modo che il joystickchino del remote no, del non-chack introduce un ritardo nel segnale a seconda di come viene spostato da una parte all'altra. a seconda di come viene spostato a seconda di come viene spostato va bene. Va bene. Torniamo alla nostra presentazione. Fantastico. Ripeto, trovate una miriade di applicazioni, di idee assolutamente finché ce n'è basta un'idea e il gioco è fatto. Bene, questo qua è il non-chack come ho detto prima ha gli stessi controlli inerziali cioè di posizione e impennaggio eccetera in più allo stick analogico eccetera di solito viene usato assieme a questo però ci sono dei casi in cui vengono che è stato utilizzato a sé stante tipicamente interfacciato con un arduino queste che vedete sono dei connettori di interfaccia che vanno infilati dentro il connettore suo e qui ci potete derivare i collegamenti che volete sulla board dell'arduino o quel che volete questo qua in particolare è un arduino quello è la roba che si trova in convention sì sì l'arduino assolutamente il connettore anche sì però mi sa che bisogna chiedere a chi lo fa direttamente non si trova esattamente in negozio diciamo però mai dire mai non l'ho cerchiato sempre nella Wii c'è la balance la balance non è altro che quattro sensori di pressione aspetta aspetta un attimo ci dico qualcuno vai vai sa è un attimino inceppato vabbè praticamente a casa ho una bilancia guasta che ha gli stessi sensori però non ho fatto che misurare il peso della persona sommando i vari livelli ed in più al collegamento bluetooth il fatto di poter registrare separatamente i vari segnali anziché sommarli come fa una bilancia normale diciamo qui ci sono alcuni usi alternativi che ho trovato in giro velocemente un tizio ha collegato la balance a un carrildino motorizzato e l'ha usato per come veicolo per il suo bambino praticamente per il suo figlio il bambino spostandosi avanti indietro destra sinistra in grado di controllare dove va questo carrildino motorizzato quel basso a sinistra non so se si vede ma è quello che ha vinto un concorso indetto dalla Nike per portare i sensori della WiMote in un paio di scarpe e il tizio c'è riuscito li ha smontato però immaginate li smontati praticamente anziché usare la balance uno può indossare il tuo pari di scarpe e giocare con qualche gioco apposito perché a questo punto non saprei che altro uso possa fare questo qua collegato tramite pc due attuatori due motori a un giocattolo di legno non so se avete presente c'è una pallina bisogna inclinare in modo da fargli fare un percorso in pratica montando sulla balance è in grado di spostando il peso in caso di controllare l'inclinazione del giocattolo quindi giocare con i piedi anziché normalmente con le mani vediamo qualche film macchino grazie va bene sto ingegnere che vedete sullo sfondo credo che lavori per google mi sembra ha una una presentazione credo sia litri di un paio di anni fa ha presentato questa applicazione della 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 board del controller in pratica con quello gestiva la la navigazione di google art spingendosi in avanti navigava in avanti la navigazione dietro destra sinistra insomma avete capito è stato ripreso è stato il primo a farlo ovviamente è stato ripreso da parecchi altri che hanno usato la 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 lo stesso scopo diciamo questo giapponese invece ha collegato la un sensore controllo l'infrarosso lo dice comunque ha collegato fatto in modo di controllare la rumba che è un aspirapolvere motorizzato in grado di spostarsi a destra a sinistra e comandarlo con la la board tramite pc l'inforzano il provergare lo da l'afflutare lo da l'afflutare lo da quindi il concetto di base è sempre quello controllare qualche veicolo in grado di essere, adesso può navigare, a surfare questa è la prossima console della Wii, si chiamerà Wii U, casualmente e avrà come controller sto aggetto qua, è praticamente un remote potenziato all'anissima potenza perché ha un microfono, uno schermo touchscreen, vari pulsantini, altoparlanti e un microfono qui ci sono altri trigger in corrispondenza degli indici e poi ce ne sono un paio anche sotto ancora non è commercio, è stato presentato quest'anno come novità questo è solo il controller, non è indipendente, non può fare niente da solo, è semplicemente collegato alla Wii ovviamente la prima cosa che faranno è collegarlo a un PC e fargli fare qualcosa altro speriamo di vede qualcosa di divertente adesso passiamo alla Sony questo è un controller che aveva un controller per la PS3 era il 6-assist che era un controller già pad normale solo che aveva in più gli accelerometri che abbiamo visto anche sul remote soliti trassi i soliti movimenti su giù destra a sinistra tilt eccetera e in più ora si collega via bluetooth non ha avuto a suo gran successo questa funzionalità credo ci sia stato solo un gioco che ha sfruttato queste cose successivamente è uscito il PS Move PlayStation Move che si collega con la PlayStation Eye Move Eye come funziona? in pratica sfrutta questa palla questa sfera luminosa che viene tracciata che viene ripresa dalla telecamera ora per fattori geometrici si è in grado di calcolare la distanza dalla telecamera del controller in base alla dimensione visualizzata è un semplice calcolo geometrico per questo la palla è così grande non ha un semplice puntino il colore può cambiare colore e questo viene deciso a seconda della colorazione dell'ambiente in modo da non confondersi con lo sfondo quindi se una maglietta rossa cambia colore la palla non sarà rossa inoltre ai soliti controlli di 6-assist che abbiamo visto prima in più è integrato un magnetometro che leggo serve per evitare che i sensori vengano starati con l'uso questo sembra che dipende dal campo magnetico terrestre non so spiegarmelo altrimenti non ho trovato molte applicazioni fuori dall'uso come controller per la Playstation due in particolare mi hanno colpito questo che questo sopra che è un il move è questo qua al centro ed è stato dei fisici di un laboratorio l'hanno usato per registrare la rotazione terrestre quello che è stato fatto da Foucault con il famoso pendolo loro l'hanno fatto con questo controllo quella sotto è una un table un giro a dischi un tubo di cartone e quei robi rotondi sono dei magneti elettromagneti che servono per annullare il campo magnetico terrestre localmente quindi da rendere indifferente il magnetismo terrestre cioè il regolamento dei sensori dal magnetismo terrestre sul successore diciamo un'altra cosa interessante sono questi tipi sono nord che usano il move per i giochi di Prada il gioco in particolare sfrutta gli accelerometri e la lampada la lampada diventa rossa se perdi il gioco consiste nel far sì che far scuotere il move altrui ma la farò perdere la vice che resta l'ultima questo viene fatto in piazza praticamente lo scopo di questi gruppi è appunto portare il gioco non fuori dalla camera isolato trovarlo fuori nel mondo e renderlo una cosa sociale vediamo qualche film qui questo è l'esato contrario qualcuno ha vedete nell'angolo in basso non si vede niente mi spiace in basso a destra c'è un quadrato in cui c'è un tipo che sta utilizzando tastiere e mouse per giocare a questo gioco che avrebbe giocato con il mover o anzi con il 6-assist con il controller in pratica ha usato il pc per emulare tutti i movimenti del controller usando tastiere e mouse che evidentemente si trova meglio mi spiace non si vede perché è oscuro un altro questi hanno interfacciato un controller 6-assist con un modello di elicottero in pratica anziché avere il classico telecomando radiocomando viene utilizzato il 6-assist la cosa interessante è che si può controllare anche usando i sensori con gli accelerometri eccetera o viceversa usando il joy giustizioni questo progettino è stato creato inizialmente per il 6-assist precedente ma poi visto che le funzionalità sono le stesse l'hanno riutilizzato per il move in pratica registrano i movimenti del controller per far muovere una piattaformina vedete se lo sfondo non si vede ci sono degli attuatori collegati con dei come di perni qua si la mostra gli attuatori un dettaglio ecco come muovono i i fili non so tutto calcolato questo progetto di prima qua spiegano nel taglio come hanno fatto con le spiegazioni sul sito è ancora più dettagliato ovviamente la fisica utilizzata è la stessa usata nei strumenti nucleari eccetera eccetera quindi prendono la prendi così prima c'è parecchi dettagli qui mostrano come il campo magnetico viene annullato la bussola inizialmente sempre puntata verso nord accendendo i magneti gli altri magneti viene annullato localmente la bussola è totalmente in arte poi mostrano come viene calibrata la posizione sia orizzontale che deve essere assolutamente orizzontale che il sensore che deve essere esattamente al centro della rotazione il resto è storia e questi sono quelli che giocano che portano il gioco fuori dalla stanza del computer sono il copenagel però il programma il concetto è stato esportato utilizzato in varie altre parti del mondo in pratica se vuoi che lo spieghino è un gioco musicale la musica viene rallentata accelerata e la sensibilità dei accelerometri cambia di conseguenza quando la musica è lenta gli accelerometri sono molto sensibili quando è veloce sono meno sensibili quindi quando è lenta bisogna stare molto attenti a non spostare il controller quando è più veloce si può attaccare un avversario è un concetto che trovo molto interessante per la più alta vita alla fine ci sono numeri di scusione quello che trae talviso alla fine o ci sono delle varianti io ho a sebastian ovviamente inizialmente il gioco era nato per la remote però il problema che hanno incontrato è stato di non avere dei driver stabili, uniformi infatti hanno partecipato a dei concorsi gli è stato risultato il gioco perché non rispettava certe regole quando hanno trovato i driver per il PS Move hanno risolto tutti questi problemi inoltre hanno la lampada che si illumina e quella non è un plus assolutamente ottimo questo è il navigation controller che è l'equivalente del Nunchuck che però non contiene gli accelerometri è praticamente solo una pulsantiera l'altra differenza è che si collega direttamente via bluetooth quindi si prende uno slot bluetooth la PS3 è praticamente in grado di gestire 4 controller oppure 2 e 2 o 4 Move oppure 2 coppie Move e navigation controller non avendo niente di particolare non è molto appetibile per fare cose particolari e veniamo al Kinect da Microsoft allora le sue caratteristiche sono che ha una base motorizzata tilt cioè va su e giù non so se avete mai visto in azione probabilmente si in centri commerciali cosa è già in modo la pratica si regola la sua altezza la sua inclinazione diciamo per ricordare meglio la scena dopo di che ha una coppia qui si vede poco di un mettitore laser infrarosso e una telecamera infrarossa questa è la parte più interessante del Kinect perché il laser praticamente spara una matrice di punti intrarossi che vengono rilevate dalla telecamera e dal ritardo con cui vengono riflessi questi punti è in grado di ricostruire tridimensionalmente la scena che gli si presenta davanti questo viene utilizzato in parecchi hack diciamo da parte degli utenti che ci mettono le mani sopra infine abbiamo la telecamera RGB il centro che è quella che riprende la scena nei colori normali e comunque di D infine un multiarray microfono multiarray che praticamente è anche quello che è utilizzato per la rilelazione spaziale delle sorgenti di suono in particolare è possibile ridurre cancellare il rumore di fondo quindi è possibile usarlo per dialogare con altri giocatori che è possibile il rumore di Wim 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 ha ottenuto un notevole successo da parte della comunità smalattona perché la microsoft ha messo a disposizione un SDK un software del robot kit utilizzabile ovviamente con windows e praticamente con questo solo per fini non profit in futuro uscirà anche una versione per uso profittevole che sarà pagamento di forresti potete scaricarla e usare la base a questo è avuto un gran successo sono stati creati parecchi utilizzi strani che possono rinunire la la sony ha fatto la stessa cosa però in ritardo infatti come abbiamo visto prima non si trovano molte applicazioni strane alternative al gioco all'utilizzo ludico diciamo la stessa cosa si esattamente la sony ha lasciato un SDK in ritardo come ho detto ormai la comunità smalattona ha cominciato a mettere le mani sul sul Kinect è data avanti per questo non mi devo altre spedizioni vediamo qui alcune cose strane questo è praticamente una sorta di macchina volante che monta qui sopra il Kinect una piastra madre del pc praticamente montata sopra sotto e poi in mezzo in grado di controllare il volo dell'apparecchio quindi in pratica è in grado se gli si mette davanti un ostacolo si ferma torna indietro e quasi questo è secondo me come viene programmato qui vediamo un'applicazione dell'utilizzo dell'infrarosso di cui dicevamo prima la posizione spaziale della persona dell'utente mentre questo qua è una proiezione assolutamente virtuale di una pastella non esiste non è disegnata da sua parte esiste semplicemente questo qua in fondo vediamo come può essere utilizzata per tracciare la posizione e lo spostamento di oggetti nell'ambiente ripreso c'è altri filmati ok ok Grazie a tutti. 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 Questo è l'esempio del pianoforte che dicevamo prima. Qui c'è la persona che controlla i movimenti del personaggio. Qui c'è la persona che viene replicato sul robot. E' un'esempio di chiara di questo piano. È un supereroid giapponese che spara raggi. quindi viene rilevata la posizione degli altri e in base a quella facciamo un'azione conseguente ovviamente Roomba è stato riutilizzato l'iRobot è simile a Roomba il concetto è quello semplicemente stavolta viene tutto controllato da un PC esterno collegato wireless e in questo caso viene utilizzato la rilevazione tridimensionale tra rosso per ricostruire l'ambiente facendo spostare il robottino nella stanza quindi si fa in giro provare delle riprese e poi si ricostruisce l'ambiente di assolto non so quanto ci è andato perso non c'è problema tanto neanche volato qui non so se avete visto ma c'era il robottino che veniva comandato con le braccia la da destra la da sinistra più o meno qui vediamo quello che dicevo prima il negozio in cui si può provare virtualmente un vestito topshop mosca non se eletto ma vedi c'è proprio la dj ed eccolo qua ovviamente ha le sue magagne perché il vestito sarà troppo alto troppo basso così così ripeto la cosa interessante è che girandosi viene mappato anche il vestito viene girato qui c'è la foto ricordo no più vi ricordo è per poter essere a portare a casa e decidere poi se di questo anno non è rimasto non è che si gira così vediamo poi questo è un tipo con una barba luna così che si prova di vestito da donna con una barba Ecco che si gira e si gira anche a retro, questa è una cosa molto interessante. Questa è una pubblicità praticamente, che illustra come questi hanno creato una cosa simile a quella di prima, solo che c'è un passaggio intermedio in cui praticamente, qui c'è questo dispositivo di scanning, ci sono due Kinect, che rilevano la figura davanti e dietro. Questa viene mappata e poi viene creato un modello, un avatar, questo è il risultato della scansione. A base a questo vengono fatte le relazioni, creato un avatar, un modello renderizzato e su quello si mappano i vestiti, eccetera. È un'applicazione commerciale, infatti questa è la pubblicità. Questo è il pupazzo e questo qua è l'utilizzo che se ne va. Questa è la cabina commercializzata, non si vede granché, ma praticamente come quella di prima sono resa più accattivante. Questo è il filmato completo della famosa tastiera musicale. Qua in basso c'era... qua sta creando la tastiera sulla scrivania. In alto a sinistra si vede com'è la situazione reale, mentre sotto. Quella roba grigia è praticamente la matrice di punti infrarosso che viene sparata da laser del Kinect. Come rileverà la pressione? Nessuna pressione. È un evento click 1-0. Viene derivata la posizione del piede in corrispondenza di un tasto virtuale e quello genera l'evento suono. Non c'è una velocità, non c'è una pressione, non c'è niente. tutto virtuale. Qua in alto c'è la... come viene visto diciamo dal computer, mentre loro stanno... dovranno sicuramente dei segni apposto dal pagamento. Peccatemente una cosa così precisa, in cavolo. La scena ovviamente è ripresa da... un film con Tom Hanks. in cui lui da bambina diventa grande e poi va nel negozio di giocattoli. Una cosa che suscita l'invidia di tantissimi, infatti viene replicata in tutti i modi possibili. e vai. Bene, ci arriviamo alla conclusione. Questi sono alcuni dei sviluppi che si trovano in rete. Per il remote la Nintendo non ha rilasciato un SDK mentre sulla... essendo il più vecchio ha anche più strumenti possibili ma sono contrastanti tra l'altro, non c'è un qualcosa di uniforme. C'è una pagina su Wikipedia in cui potete trovare un sacco di informazioni al riguardo. Sì, però lui parla con tutti. Sì, sì, senz'altro. Tutti parlano con tutti. Tranne appunto il Kinect che è collegato via USB. Per cui perché ci sarebbe un SDK? L'SDK serve per interpretare... Prima di tutto, uniformare il... Secondo, controllare... La Sony e la Microsoft, rilasciando un SDK, controllano... Sicuramente c'è una clausura che dice quando vogliamo togliamo tutto oppure decidiamo che questa cosa si può fare e quest'altra non si può fare. E' come ha fatto l'Apple con il suo mercato dei giochini, no? Tutto viene pubblicato per l'iPhone, eccetera, sui giochini solo passano tramite loro. La Microsoft e la Sony hanno una cosa più blanda però sostanzialmente il concetto è quello. Inoltre c'è anche il fattore... voi lo inventate, noi poi ce ne approchiamo e lo applichiamo nei nostri giochi o altre. in pratica danno mano libera all'inventività della comunità e poi ritirizzano magari il contatto, non gli fanno un contratto o quel che è però è una cosa molto interessante. Si avvicinano anche loro al discorso di community che realizza qualcosa. L'in-mc-tool è qualcosa di vecchiotto, infatti per la PSMove si preferisce vediamo sotto il PSMove API che è realizzato dalla comunità, eccetera. Non so se è il precedente o successivo all'SDK della Sony. L'SDK della Sony si chiama Move.me, funziona per Windows ovviamente e stranamente, cosa curiosa, utilizza un server sull'APS3 quindi c'è bisogno di un'APS3 quindi se siete proprietari di un'APS3 potete usare l'SDK altrimenti o ve emulate l'APS3 che almeno è un po' difficile. Infine il Kinect della Microsoft ha lasciato l'SDK sempre per Windows poi c'è stato un caso curioso una società ha messo una taglia, tra virgolette per creare un driver per il Kinect ha fatto un concorso e la Microsoft ha detto no, quel cavolo, adesso mi craccate il Kinect ha detto no, il Kinect resta così com'è noi vogliamo solo il driver non vogliamo mettere un chip dentro il Kinect e la Microsoft ha detto ok, va bene ed è un altro stop in Kinect che è una serie di librerie e di strumenti per programmare utilizzando il Kinect quindi praticamente il segno di controllare è abbastanza recenti è tutto abbastanza in movimento quello più avanzato ovviamente è la Wii perché si permettono di, con quelli che costano, di smontare e rimontare i vari controller il Kinect costando quelli che costa magari già meno si preferisce utilizzarlo così com'è il PS Move è un costo paragonabile al Wiimote quindi, però anche lì non ho visto grande apertura diciamo sembra che l'Arduino sia appunto l'elemento per rendere indipendente l'utilizzo di questi controller dal PC quindi per automatizzare un sistema, utilizzare un controller separato sembra che sia la piattaforma di sviluppo favorita vai di ringraziamenti e infine il disclaimer che dice che io le immagini e i filmati li ho presi però sono roba loro, quindi se vogliono basta avvisare che li tolga ma ce n'era un paio che ci ha scritto chiaro tondo tutti i diritti riservati, quindi lasciati stare bene, questo è quanto adesso in teoria ci sarebbe un esperimento con la lavagna interattiva multimediale però, vista l'ora e visto che ci sarebbe un talk successivo non so se è il caso di procedere vediamo se si trova il relatore successivo Signori, sono pronti i panetti Fabio! Fabio! Guarda, si vedi là! Pantor che dice tempo! Vabbè, il concetto della limba, dato che aspettiamo di avere qualche notizia è questo, si posiziona il remote di fianco al proiettore in modo che riprenda l'area in cui viene proiettata la schermata la lavagna bianca elettronica informatica viene comandata e contiene praticamente dei comandi semplificati perché appunto si utilizza un controllo di questo tipo che consente solo ok, proviamo allora che consente semplicemente la simulazione della pressione del tasto destro del mouse quindi un click e basta un tasto destro una rotellina o altro quindi deve essere tutto un po' semplicato per Linux è stato realizzato se lo troviamo un attimino che devo prima disattivare l'altro sistema di controllo che è quello che mi fa fare da mouse per questo dicevo prima che un SdK uniforme sarebbe applicabile perché vari vari sistemi utilizzano sistemi di traccionamento diverso e incombatiboli ok ora guarda, via di qua su di qua due 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 per questo che vedete credo, sì è un sistema di verificare se viene riconosciuto correttamente il remote. Io adesso lo utilizzo per posizionare. L'ha riconosciuto, infatti vediamo vari pulsanti. La cosa che mi interessava era vedere l'infrarosso. E se io posiziono questo così... Cavo, cavo, cavo. Mi spiace ma devo staccare il cavo. ... 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